Era stato sospeso dall'albo dei commercialisti ed esperti contabili due anni fa, ma nonostante ciò avrebbe continuato a esercitare la professione. Per questo gli agenti della Guardia di Finanza di Pavia, dopo un controllo antiriciclaggio, all'alba hanno posto sotto sequestro beni per circa 600.000 euro riconducibili a un commercialista di stradella già arrestato nel 2022 per reati di natura fiscale. A seguito dei fatti giudiziari, l'ordine dei commercialisti di Pavia, aveva adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione di 5 anni. Nonostante ciò, le indagini hanno permesso di accertare come il professionista abbia continuato operare, curando gli adempimenti dei propri clienti, depositando bilanci sociali e ponendo in essere tutti quegli atti propri dell'attività professionale. In modo abituale, continuativo, fanno sapere le forze dell'ordine, fatturando le relative prestazioni, incassando nei compensi. Inoltre, pensione dall'alba avesse comportato nei confronti dello stesso la revoca delle credenziali per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate e delle dichiarazioni fiscali, il professionista avrebbe continuato a utilizzare il servizio telematico, ricorrendo a credenziali di altri colleghi. Per queste prestazioni, secondo l'indagine della finanza, il profitto ricavato monterebbe a oltre 579.000 euro, somma di cui il giudice per l'indagine preliminare di Pavia ha disposto il sequestro preventivo. Grazie. Grazie.